Vintage V132 con dei bei P90 wakinson, questa bellissima chitarra è arrivata oggi, oggi ho un po' di febbre per cui datemi un paio di giorni e vi farò un bel video molto approfondito, se non siete iscritti iscrivetevi così non ve lo perdete, dai passiamo via questa febbre e via di suonata